Sono Amin, ho 21 anni, sono nato in Marocco, sono qui dalle elementari, quindi ho fatto le medie, anche le superiori, anche le università. L'Europa è stata sempre qualcosa di grandiosa ai miei occhi, un gruppo di stati che si riunisce per affrontare problemi e tematiche che riguardano tutti è sempre stata qualcosa di grandioso termine, dall'economia ai diritti, quindi è un qualcosa di quasi perfetto ma migliorabile. Per esempio io quello che migliorerei nell'Europa è l'istruzione, l'educazione dei ragazzi, degli adolescenti e anche degli adulti. Se si riesce in questo, nel migliorare l'educazione, quindi investire, lavorare con i singoli paesi per investire più in educazione, per creare una futura generazione molto più intelligente, ovviamente, molto più aperta ed empatica, è la cosa migliore per tutti e per questo mondo. Se si riesce in questo, tutto il resto diventa semplice. Tutto qui è l'unica cosa che magari cambierai nell'Europa. Tutto qui, grazie e ciao. Tutto qui, grazie a tutti.